Valdivara-Rappallo, abbiamo l'allenatore del Valdivara che oggi si troverà nella veste di allenatore e incontrerà sulla panchina, sul campo opposto, il figlio. Cosa ne pensi e che sensazioni puoi avere? Penso che sarà un'emozione un po' particolare. Diciamo che me la sono immaginata, ci ho pensato un po' come potrà essere, però adesso nell'imminenza della partita vedo che sta un po' arrivandomi un po' di tensione all'idea di vedermelo dalla parte opposta. Però poi immagino che con il calcio d'inizio mi concentrerò solo sulla mia squadra e quindi passerà velocemente. Poi ci rivedremo magari a fine partita, magari anche domani ne parleremo. Però adesso un paio di giorni che non ci sentiamo apposta. Con Lorenzo? Con Lorenzo, sì. Poi dalla prossima settimana comincerò di nuovo a tifare Rappallo, stavolta sicuramente no. Ciao, grazie.